Bisogna fare solo bene, abbiamo tutte le credenziali per fare bene, c'è un gruppo che mi sta seguendo alla lettera e perciò sono contento di tutto questo. Il calciomercato per il momento sta dicendo che la team Altamur è una delle squadre che si sta muovendo meglio nell'intero panorama della Serie D, quindi non volete nascondervi? No, assolutamente, si sono fatti grossi sacrifici per prendere giocatori di categoria anche superiore e perciò bisogna solamente al campo dare le giuste indicazioni per fare una squadra di livello e soprattutto per fare il risultato. Così ha parlato ai nostri microfoni mister Domenico Giacomarro lo scorso 5 di agosto nel bel mezzo del ritiro di Chianciano. Non vogliamo nasconderci dietro ad un dito puntiamo alla vittoria del campionato, dichiarazioni insolitamente oneste ma conformi alla potenzialità di una squadra costruita per emergere nel regruppamento H, nonostante le tante compagini costruite per lo stesso obiettivo. Un campionato iniziato con il piede giusto e con tre vittorie consecutive nonostante la rapida eliminazione in Coppa, poi due pareggi in tre giornate prima di incontrare i primi ma anche gli undici momenti di difficoltà. L'Altamura soffre soltanto nella seconda metà di ottobre quando perde consecutivamente contro Nardò e Casarano, formazioni costruite a propria volta per un campionato di vertice, cui stagione era però partita con il freno a mano tirato. A novembre inizia il dominio dei Murgiani, che dopo aver vinto in trasferta contro Langri superano il Fasano e raggiungono la cima della graduatoria, da qui in poi la team non perderà più il possesso del primo posto. 12 giornate di fila da capolista prima di raggiungere l'aritmetica promozione in Lega Pro, ma nel mezzo non sono mancate vittorie, soddisfazioni e anche timide frenate. Il 2024 infatti non inizia nel migliore dei modi per la ciurma di Giacomarro, alle prese con una pareggite cronica che permette alle inseguitrici di accorciare sempre più, senza però mai riuscire né nell'aggancio né tantomeno nel sorpasso. Il giro di boa dei Biancorossi inizia con 5 pareggi in 6 giornate, è un'alta mura che fa fatica a vincere, ma che continua comunque a non perdere. I Murgiani riprendono la propria inarrestabile corsa proprio contro chi nel girone di andata aveva tarpato loro le ali, cioè Nardò e Casarano. Nasce qui un lungo filotto di vittorie, interrotto soltanto dal K.O. di Martina, match al termine del quale si assottiglia anche se di pochissimo il vantaggio della team, che però continua a vincere. La gara del Tursi interrompe un'imbattibilità lunga 4 mesi e mezzo, ma non basta per fermare la cavalcata verso la promozione di lo Iodice e compagni. L'aritmetica della Serie C sarebbe arrivata anche domenica 14 aprile a Pagani, ma il fato ha voluto che l'alta mura festeggiasse davanti ai propri tifosi Aldangelo. Lo stesso fato che ha voluto che a decidere la gara più importante fosse il vero simbolo di questa squadra Nicola Lo Iodice, MVP indiscusso della stagione dei Biancorossi con 14 gol e 12 assist, dopo aver superato in termini di marcature realizzate il proprio personal record della stagione 2018-2019, lo Iodice ha adesso messo nel mirino il titolo di capocannoniere, conteso anche da Palermo e Castro. È un'alta mura che non vuole dunque lasciare neanche le briciole alle inseguitrici dopo aver dominato in lungo e in largo un campionato complicatissimo.